Piano piano arrivano tutti. Il Movimento 5 Stelle, non più di lotta ma di governo a livello nazionale, aveva più del 20% le ultime politiche in territorio di Bassano. La partita delle amministrative però per i 5 Stelle è sempre molto diversa, soprattutto ora che l'alleato di governo leghista pare avergli letteralmente portato via almeno un terzo dell'elettorato. Quindi il piccolo gruzzoletto dell'unico consigliere comunale, Anna Maria Conte, resta comunque a rischio in caso di ritorni a vecchi numeri in Rivalbrenta, tanto che ci si poneva il dubbio se il Movimento fosse in grado di esprimere un candidato in zona. Ora quel dubbio pare sciolto, visto che entro fine mese la piattaforma Rousseau dovrebbe essere chiamata a scegliere il nome su cui puntare. Di sicuro il profilo basso della Conte in consiglio comunale non sembra avere particolarmente impressionato a livello mediatico e comunque lei si chiama fuori. Su chi presenterà meglio attendere e non fare fantapolitica, anche se di sicuro a benevolmente sovrintendere ci sarà la senatrice Barbara Guidolinda Rosà. Altri nomi ci sono in giro, ma anche qui siamo ancora nel campo dei desideri del pensare a raccogliere sufficienti firme sulle liste e magari anche qualche motivazione forte. Ma non ci sono dubbi che l'irresistibile fascino delle elezioni locali attrarrà come api sul miele altri cittadini e in fondo è una delle poche elezioni in cui il cittadino ha l'impressione di poter contare ancora qualcosa.